In questi due anni, nonostante le difficoltà e anche le varie limitazioni, l'arte e la voglia di emozionare, non si sono mai firmate. Questo fine settimana mettere in mostra le sue ultime opere, come ha intitolato la personale? L'ho intitolata De Camerone 2022. Qualcuno si è un po' spaventato di fronte a questo titolo, ha pensato chissà cosa combina quest'anno Doro-Catalani. Niente di preoccupante, al massimo dico ai ragazzi, oltre che Chiquibio non ci sarà, tranquilli. Qualcuno ha avuto paura però. Come è nata l'idea? È nata l'idea perché nel 1348 Giovanni Boccaccio racconta la peste e dieci giovani, di cui sette ragazze e tre ragazzi, fuggono dalla città e vanno in una villa in campagna, tra le colline oltre Firenze. Noi abbiamo avuto il Covid, quarantena e tutti i vari problemi, in più la guerra, i rischi e anche noi abbiamo bisogno di asciugare i nostri pensieri al sole. Quindi stare un po' in pace in un'isola serena, come rappresentato in questo quadro, nonostante il bombardamento e il campanile della stazione un po' in bilico. Quindi abbiamo bisogno anche noi di un po' d'arte, un rifugio per l'anima. Quando e dove si terrà l'inaugurazione? L'inaugurazione sarà sabato sera alle 21.15 fino a tardanotte, poi avremo la seconda parte domenica pomeriggio dalle 17 in poi. Villa bassa al prelato, ingresso libero, basta prenotare. E saranno presenti anche diversi attori, scrittori, artisti? Mi piace contaminare, non soltanto presentarmi con i miei quadri, sarà una bella retrospettiva con le ultime produzioni, ma la contaminazione. Durante questo percorso che avverrà all'interno del prelato, della Villa bassa, ci saranno varie situazioni molto intriganti. Poi fuori tutto lo spettacolo che sarà composto da personaggi validi, che ormai conosciamo quasi tutti, dall'esperienza comune, che racconteranno qualche cosa della loro vita, per così, per condividere. Abbiamo bisogno anche di parlare. In questi giorni di promozione ho conosciuto gente che in tre secondi mi raccontava tutta la sua esperienza di vita, anche le sue sofferenze. Quindi credetemi, è un momento senz'altro benefico per la nostra anima.